Erano già stati preannunciati dall'assessore Ivan Rando a gennaio i nostri microfoni dei provvedimenti sulla viabilità cittadina. Lo stesso aveva anche incontrato sul tema della sicurezza stradale la seconda commissione consigliare. E così, secondo direttiva assessoriale, si prevede l'installazione di nuova segnaletica verticale in città, come limite di velocità di 30 km orari in alcuni tratti stradali, dove necessario relazione al flusso veicolare e pedonale. In alcune vie invece sono stati installati dei distuosori elettronici. Come anticipato qualche settimana dietro, è stato dato il via alla mia direttiva assessoriale che prevedeva l'installazione di nuova segnaletica verticale in maniera tale da creare un ulteriore deterrente con limiti di velocità 30 in tutti quei tratti stradali condivisi con la commissione consigliare e con tutta l'aggiunta, che potessero essere, dovessero essere maggiormente attenzionati per via di un flusso veicolare o pedonale che ne creasse la necessità. Sono stati gestalati i distuosori elettronici in via Rogister, in via Luigi Monaco, in via Due Fontane e in via la Regina Margherita. Continueremo con tutti gli altri tratti, soprattutto in vicinanza delle scuole, così come da direttiva, valutando caso per caso, ovviamente compatibilmente con le motivazioni tecniche che poi ci riportano al codice della strada, per scegliere se poter inserire i distuosori elettronici o soltanto la segnaletica verticale recante e il limite di velocità. Abbiamo peraltro continuato a portare avanti un finanziamento che abbiamo ottenuto l'anno scorso con un progetto di messa in sicurezza dei siti stradali per la riduzione del tasso di incidentalità che consiste nella realizzazione di alcune soprelevazioni della pavimentazione stradale sulla quale vengono poi nuovamente ridisegnate le strisce pedonali, quindi si tratta squisitamente di attraversamenti pedonali, che andranno a integrare quelle già individuate nella direttiva. Inoltre stiamo anche portando avanti le esigenze di alcuni quartieri che ne hanno fatto richiesta o di una miglioria della segnaletica orizzontale e della segnaletica verticale. In merito invece al sistema semaforico, al momento non funzionante in corrispondenza di Piazza Europa negli incroci tra via Catania e via Calabria, Abbiamo verificato in autonomia come peraltro di nostra competenza per la gestione ordinaria dei semafori stessi ma abbiamo poi verificato che il problema che si è creato era un problema che non potevamo risolvere internamente quindi siamo in attesa che venga completata la manutenzione da parte di una ditta specializzata che ci aiuterà nella sostituzione della centralina che è andata rovinata. Quindi sicuramente a breve verrà ripristinato il semaforo di via Catania. Grazie a tutti.